Appartamenti, garage, officina Vespe, moto d'epoca poi 132, dal 133 al 134 la pizzeria Lo zio Peperone, con allegro cartello con peperone travestito da zio Paperone 135 studi legali, poi un locale, Ralbaraca, 137, 138, Arch 139, 40 e 41, è tutto trattoria Lapo, poi appartamenti al 144, c'è scritto solo aperto ma noi lo sappiamo Pane toscano, lievito madre tutti i giorni, ma cosa ci giri intorno? È il pastaio 145 studi medici di piazza mercatale, poi si cambia lato, è gelateria all'ingotto, è casa normali e system studi al 147, sì sì sì, 148 Loez, farmacia sempre aperta comunale 3 e poi il gran ducato della chiesa, il chiesone, la zona mistica Intanto passano giovani tope, 151, 152 appartamenti Al 153 c'è ducce, al 154 è Tamara la parrucchiera 155, 155 ha garage, case, vendesi, costasi, affittasi Ed è giapponio, fino al 161 numerazione interna, è tutto case, fino al 174 Poi al 176 ci abita un signore Al 187 mucchi, vendesi pianoporte, ancora affittasi garagione, siamo quasi a dama Al 180 al ristorante che cambia gestione a rotta di collo E c'è anche il 181 che è quasi via dei saponai Che è un appartamento, che è l'ultimo numero di piazza mercatale In prrrrato In prrrrato